Noi presentiamo un sistema che abbiamo sviluppato per metallizzare qualsiasi materiale. In pratica si parte da una stampa 3D piuttosto che da frutta secca tipo noci, castagne eccetera o oggetti di plastica in generale e dando una prima finitura con dello spray che rende conduttivo il pezzo anche se non è in materiale conduttivo. Poi immergendo questo oggetto in una mini galvanica che abbiamo sviluppato per rendere affluibile anche in piccoli laboratori, nelle scuole o anche a casa magari nel garage di casa, riusciamo a metallizzare qualsiasi oggetto. Dal rame poi si può passare anche ad una finitura con oro, con rodio per rendere più brillanti questi oggetti.